buongiorno a tutti buona giornata bella come c'è da noi qui in toscana in questi giorni ho pensato via fare video per ringraziare diecima persona che mi si iscritta nel mio video nel mio canale canale youtube però questa gioia è durata soltanto due giorni perché dopo questo diecimo è sparito andato via cambiato idea e cancellato iscrizioni io pensavo mamma mia un bello ma questo diecimo e ma chi è questa diecima persona un uomo una donna qualcuno trovato interessante nel mio canale però niente non c'è più ma mio canale per divertirsi e basta così senza nessuna aspettativa ora ce l'ho 30 minuti per prendere questo cappuccino non prendo mai cappuccino ma sempre caffè ma questa volta prendo cappuccino perché è un po così giornata invernale quasi da noi ancora molto caldo 15 gradi bel soli bel tempo e niente questo è la nostra stazione questo è la nostra stazione allora vi saluto tutti e aspetto mio diecimo scritto che faccio video delicato dedicato a lui o a lei grazie buona giornata a tutti no 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 Grazie a tutti.